aspetta regà che non lo sentite lo so che non lo sentite che fatta posso vado via ciao no allora io diciamo le domande ce n'ho una tonnellata da preparare più un po' di notizie io non ho preparato un cazzo non è un problema tanto è vera prima puntata prima puntata pilota se la introduzione è la pilota è la pilota aspetta Mario la tacci sua e allora no più che altro ti piace l'idea di poter invitare i neopromossi in serie A un giorno non so come trovarli ma però dici c'è dispettatore di content creator non credo ci sia un tifoso content creator del frosinone eh non penso no se li conoscete passateci di chat saluto Federica non credo che ciao Fede non credo che ci siano del frosinone ma è già difficile trovarli che altro è venuto in serie A che guardano il calcio ma che stai di AP eh no ma manco troppo in realtà eh chi è venuto in serie A quest'anno eh boh Genoa chi è venuto Genoa Cagliari chi è passato mi ricordo ah Dio Cristo ce ne saranno un botto di creator del Genoa tocca chi è dal pancio tocca un baglio però se non è Cagliari Genoa ok ok dai uno sardo lo trovi no Cagliari c'è stanno regà i creator del Cagliari Cagliari boh probabilmente sì ci fosserebbe tipo Cristina però qui Spitz non credo che sia quel cazzo non credo vabbè possiamo prendere uno della chat dai sì è un po' paura sta roba però sì boh non lo so perché poi a volte magari vengono a fare mutismo selettivo cioè no ci prepariamo delle domande diciamo allora sei soddisfatto della campagna acquisti della tua squadra ah ok che adesso arriva in serie A e dirà sì sì no esatto vabbè dai uno del frosino neve non mangio allora con rispetto ovviamente ma il Cagliari scusa io sono veramente impreparato su su chi ha preso il Cagliari c'è Cagliari cioè con chi gioca qual è la punta diamante del Cagliari di quest'anno per ora dai andiamo a vedere Cagliari Cagliari calcio giocatori la padula ancora favoletti e la padula ancora ma è tipo ma cos'è il 2010 oh allenatore Claudio Ranieri comunque porta rispetto eh vabbè sì sì quello sicuramente però cioè basta la padula allora te li dico andava di modo quando c'era acqua fresca goldaniga in difesa quanti anni c'ha goldaniga aspetta è un 93 dos 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 na mancosu la padula in attacco senti qualcosa sì c'ho il volume acceso sul calciomercato la padula in attacco basta a pavoletti capitano tra l'altro elio capradossi capradossi sì eccolo qua c'è un difensore ma questo pezzo sia una riserva zappa non era male però mi ricordo non era titolare quando giocava in serie a mano quando giocava non era goldaniga ma cosa sei è primavera dell'inter zappa eh non era male però giocava già nel giocava già l'anno scorso nel genoa o nel cagliari non mi ricordo c'è dove mi sembra nel cagliari allora aspetta prendiamole tutte frosinone e l'altra qual era? è genoa cagliari mamma mia che palle però io speravo che venisse Nandez si è ripreso dall'infortunio ragazzi io quella serie B non l'ho seguita minimamente chi è Nandez? è il centrocampista quello che voleva anche la Juve allora il frosinone calcio ti dico chi ha? Mario sei te? ciao Mario sono io? sì sei te sì c'è la luce strano se volete io c'ho io c'ho streamlub scusa di ritardo dei dieci minuti dieci minuti sono tanti al giorno d'oggi nel nostro mondo di creator sì volevo dirvi io questa cosa del logo di streamyard ce l'ho tolto volete no guarda ce l'ho io non fa niente ho fatto da poche intervista con i bob bisogna pompare youtube quindi magari per un editino quello l'icona di streamyard magari potrebbe non servire nel senso chiedo a Diego per il suo piano ma cosa vuoi editare e dici cosa vuoi editare che facciamo capo va bene così non ce ne prendo un cazzo non sei con Dario Moccia ero per i coglioni come si parla di calcio oggi dai parliamo di calcio ciao no stavamo parlando delle neopromosse neopromosse ok ciao a tutti scusate ancora tranquillo tranquillo sì perché un po' di spazio anche per le neopromosse parliamo sempre delle solite cazzo delle squadre del merda parleremo anche di quelle c'è molto le ore in realtà la gente vuole ascoltare le squadre grosse le squadre grosse hai visto che il sergente se n'è andata la lilal affronteremo anche questo argomento se volete anche se triteri trito voi accettereste per 20 milioni all'anno io sono dispiaciutissimo avrei preferito andassi alla Juve pensa te cioè tu Nanni tu ti offrono questo tu devi andare in un posto di merda completamente desertico dove le donne stanno tutte col turbante e vengono trattate di merda per 20 milioni come li spendi come te la godi la vita lì aspetta però perché un conto è chi ci abita è far poveraccio un conto sono loro perché io secondo me cioè Milicovitsavic non ce lo vedo abitare in un posto di merda cioè viverà tipo in un attico di un grattacielo di un miliardo e mezzo si ma sei dentro casa dove va? eh ho capito a Roma c'è che fai esci dove vai a Roma? ho capito dai Nanni ma che stai a dire no no a di là a di là prendi cioè non esci e sei a Roma che no che Roma fa schifo però quando mai ce lo vedi un calciatore che va a spasso a Roma in centro in mezzo alla gente ti giuro Milinkovits lo seguivo stava tutti i giorni con la pischella in giro per Roma mano nella mano no allora questo è sempre sbagliato e boh non lo so sinceramente secondo me non sbagliano a farlo secondo me non sbagliano a farlo no no ma per carità però io dico solo come cosa fareste voi cioè io sì l'accetterei dipende secondo me dall'età cioè se tipo ho 20 anni secondo me sono un coglione perché se sono se ho 20 anni sento di essere forte e di comunque già giocare una squadra prestigiosa ok ma cioè questo magari secondo me avrà anche 40 anni penseranno anche cioè ma io ma dove cazzo deve arrivare di più cioè chi è che quando mai c'è la possibilità magari non so di cosa vince la Champions vuol dire che deve andare nella squadra giusta al momento giusto fortissima boh non lo so si mette l'ipoteca sul futuro e vaffanculo vabbè ma rega ma chic che c'è se fanno su chic e sto qua a Roma cazzo magari vi danno 20 milioni per andare su chic tu Mario me danno 100 milioni cosa ne penso di Savic sì no no di questa cosa qua di un trasferimento di un pischello rispetto a un quarantenne ma ci sono ci sono secondo me dei momenti dove da calciatore se fossi un determinato calciatore lo farei anch'io sicuramente non lo farei se fossi Benzema per esempio ma essendo Milinkovic Savic penso che sia una scelta veramente triste perché se guardi la carriera di Savic si è fatto una bella una bella una bella squadra giovanile poi se ne è andato in un posto dopodiché è andata alla Lazio alla Lazio ovviamente si aspettava soltanto il salto di qualità c'era lo dito che lo strapoleva vendere a cento milioni l'avrebbe venduto lo sai tutto quello che è all'alilal no l'avrebbe venduto al Milan a cento milioni l'avrebbe venduto al Milan a cento milioni adesso Savic si aspettava soltanto i triennali della consagrazione della sua carriera anche perché a livello d'età gli bastava avere questo triennale per fare quel salto che l'avrebbe consagrato a campione anche sul solo internazionale non soltanto nazionale è una grande sconfitta perché era chiaro che doveva rimanere in Italia perché è un centrocampista da serie A perché sarebbe stato un top in qualsiasi squadra fosse andato anche alla Juventus dove si gioca un pessimo calcio la Lazio arriva da seconda quest'anno sicuramente non soltanto grazie a lui perché ha un bello organico ma Meningovi Savic non lo so penso che siamo tutti d'accordo è un campione è fortissimo dico questo è il calcio dei popoli che tutti volevano no la dignità del Sassuolo senza la Superlega eh con la Superlega Savic rimaneva in Italia era chiaro che sarebbe rimasto in Italia smettila per favore veramente non è supercazzo ho detto Superlega capito? ciao Tani ciao secondo me secondo me c'è proprio una visione sbagliata da Masuka non è che è sbagliata è che spesso e volentieri si ragiona con la mentalità tipo degli anni 90 80-90 applicata ad oggi cioè si dà per scontato che il giocatore famoso forte che sia abbia come ambizione diventare il campione o cercare di raggiungere sempre il massimo secondo me boh si è proprio si è spezzato ormai questo questo cerchio cioè la gente a un certo punto fa ma a me chi cazzo cioè ho 28 anni eh ho già un po' di sordi da parte mi danno una carrellata di milioni che mi mettono in banca le prossime 100 mie generazioni per un anno due dove vivo comunque nell'extralusso poi al di là di dove va abitare il paese i dinamici sociali ma chi cazzo me lo fa fare di se non per pura ambizione sportiva di stare in Italia e non fare la miseria chiaramente però neanche essere coperto d'oro cioè secondo me quando entri in un meccanismo anche di vita da parte loro dove per sostenere quella vita devi essere ricco perché poi magari la macchinona la cosa e poi boh magari c'è sempre anche da parte loro il terrore di ritornare nella miseria vallo a sapere quindi si prende la carrellata di soldi e buonanotte vaffanculo sì e poi ovviamente c'è anche da dire nei confronti di tutti quelli che dicono ma già la carrellata di soldi li prende che c'è una differenza tra lo stipendio alla Lazio e lo stipendio in Arabia che anche ha un grande ricco come Savic dà una differenza anche se magari qualcuno che guadagna molto meno potrebbe dire ma che 3 milioni e 10 milioni sono la stessa cosa no e penso che tutti abbiano il diritto di poter disegnare la loro vita per come vogliono però nello specifico Milinkovic-Savic ripeto aveva un triennale per diventare uno dei centrocampisti più importanti di questi 10 anni ma non alla Lazio no se ne sarebbe andato dalla Lazio sì voleva andare alla Juve poi a giocare alla coffera ma baffa un culo per me è il classico Pelotti che valeva no 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 per quanto riguarda a livello dirigenziale non di calcio ah ok ok Pelotti Cairo lo voleva vendere per forza per una città si sia un miliardo fino a quando si è declassato in maniera tale che tu non lo puoi più vendere sia per orgoglio sia per proprio un conteggio finanziario a 15 20 25 milioni cosa che gli hanno proposto sicuramente i club di A e quindi lo vendi in arabia perché ormai non vale più i soldi che pretendevi tre anni prima anche se io 35 40 milioni per Savic in Italia li avrei presi perché in Italia con il livello che c'è se prendi Milinkovic a centrocampo vinci lo scudetto per me ma sì però io leggo in chat che come diceva anche Mario la Superlega si avrebbe frenato eccetera però cioè ragazzi sono da qua a dire che un'arabia o una una Cina versione minore possa prendere tra virgolette tutti i giocatori che vogliono ragazzi cioè non scordiamoci questi quarantenni no ma più che altro cioè quando te vai un tuo idolo un tuo sportivo va nella squadra estera un conto e se ti vai in una squadra di premier dove dici ma sai cosa storicamente calcisticamente a livello di altre squadre eccetera mi metto a guardare la premier perché comunque è una bella competizione cioè o nel campionato arabo su non lo so quante squadre ci sono 15 squadre la massima competizione ogni squadra ha almeno 22 giocatori europei all'interno con 11 titolari europei 8 o 1 o 2 al massimo arabi ma se no ma chi cazzo me lo fa segui i belotti che gioa insieme alla ma chi cazzo ma in Europa ma chi è perché non li conosco capito cioè sono proprio tantissimo distante culturalmente a noi faccio proprio anche fatica a a seguirli a conoscere i nomi a entrare nella dinamica del loro calcio eccetera quindi chi me lo fa a fare di seguire il campionato arabo nessuno quindi non si compra anche 3 e 4 secondo te se compreranno mai la passione ma la passione secondo me ce l'hanno loro no no comprare il pubblico europeo cioè comprare no no non ce la fanno non ce la fanno a push up e fa venire veniteci a guardare dai abbiamo preso benzemà abbiamo preso ronaldo messi mininqui prenderemo altri venite a guardarci dai guarda che bel campionato come fanno in america no che è tutto spettacolo ormai secondo me non ce la fanno non ce l'ha fatta l'america non ce la fanno nemmeno loro molti dicono che succederà la stessa cosa che è successa in cina e cioè che poi a un certo punto liberi tutti liberi tutti portiamo i campioni portiamo i campioni e poi ci sarà un blocco al mercato perché non si sta andando per il verso giusto anche a livello economico ma per me non è così perché gli arabi hanno anche il sostentamento della monarchia hanno l'appoggio del re per direttissima che a quanto pare prende i calciatori dal mondo extra arabo li porta nella sua nazione e poi decide a quelle squadra lasciarli si pensa addirittura si pensa che l'affare gattuso stia andando da questo punto di vista quindi secondo me in arabia quando convinceranno i giovani quando cominceranno un oscar ad andare a giocare in arabia la sarà un sarplassa a livello di competizione ma in questo momento si vede benissimo cosa stanno facendo stanno trovando e stanno cercando calciatori affermati calciatori di valore e non vogliono seconde scelte per esempio secondo me una un'aubabe young quest'anno in cina in arabia non ci va secondo me sono più bravi proprio dal punto di vista di profilo da acquistare secondo te anzi secondo voi quanti sono invece quelli che hanno rifiutato ma non si sa che hanno rifiutato rispetto a quelli che ovviamente sono andati tutti secondo me 50% 50% magari ci sono state 3 miliardi di offerte a tutti ma le offerte si si le offerte arrivano a tutti poi è chiaro i precuratori il giocatore sceglie cioè chi cazzo glielo fa fare a magari cazzo sa un bappé di andare a giocare in arabia però figurati se non gli è arrivato ditemi un calciatore che secondo voi non ha ricevuto un'offerta dalla rabbia quest'anno no è impossibile barella cioè a parte se figurati secondo me l'ha avuta prima di tonali chi? dal newcastle prima di tonali secondo me l'ha avuta dal newcastle ma tonali così forte è rega? cioè proprio così forte forte? a me piace tantissimo beh sì non è malaccio è un bel giocatore tra l'altro c'è anche un'altra un'altra dinamica in questo prima di tonali c'è un'altra dinamica cioè il fatto che sì l'Arabia sta comprando giocatori da portare in Arabia però non scordiamoci che loro hanno anche le squadre in Europa cioè fin tanto che le squadre arabe in Europa continuano a essere arabe li daranno sempre priorità quindi o a un certo punto trasferiscono tutto però secondo me si parla boh non lo so è proprio impossibile secondo me che il pubblico occidentale cioè che il pubblico europeo si metta a guardare si metta a seguire il campionato arabo se non è impensabile è vero è vero cambiando un pochettino discorso secondo voi quest'anno così vabbè questa è proprio una previsione il Napoli che ha cambiato allenatore sta svendendo praticamente tutti farà una stagione buona o ritornerà un po' più giù e lascerà spazio a voi squadre di merda tipo Inter Milan e Lazio magari eh vabbè Lazio è arrivato a seconda o comunque no o comunque è sempre una buona squadra il Napoli a meno che non vende pure Zerischi tra l'altro ho letto che vuole andare in l'Abbia pure lui e altri però solo chi mi hanno venduto se non sbaglio eh però c'è stato un botto di offerte anche per si dice per cosa come si chiama non mi ricordo il attaccante e Ausiman sì potrebbe essere un rischio secondo me il Napoli può fare una bellissima stagione ma è sempre quello il discorso se due anni fa una squadra come il Milan ha vinto lo Scudetto vuol dire che veramente tutti lo possono vincere quindi eh sì secondo me è sotto l'ombra di tutti con tanto rispetto per l'impresa che hanno fatto Maldini eh Ibraimovic e tutto il resto della dirigenza il Milan campione d'Italia di due anni fa non è un organico da titolo nazionale però l'ha vinto comunque il Napoli ha vinto perché era un buonissimo organico ma non aveva una rivale per direttissima vuoi perché la Juve si è impasticciata legalmente come al solito l'Inter non era per niente con una spina dorsale dritta il Milan ha rispecchiato secondo me non ha deluso le aspettative ha rispecchiato il valore del suo organico e secondo me il Napoli può rivincere lo Scudetto come lo potrebbe vincere io direi l'Inter io direi che lo vince l'Inter quest'anno che avete preso? che non so niente non so nulla secondo me lo vince l'Inter chi avete preso? non è tanto hanno preso Bissek Turam hanno preso Marcus Turam sicuramente non finirà qua perché serve un altro attaccante secondo me servirebbe un mediano ma secondo me Inzaghi sta facendo l'inzagata secondo me il mediano non lo vanno preso frattesi dicono secondo me ma siete voi che ce l'avete rubato? abbassano ciala ma che dici frattesi è romanista pezzo di merda frattesi è romanista ma che ce l'hanno rubato? ma non si guarda in faccia le magliette quando restano i soldi ma uno era più interessato alla Roma e l'aveva praticamente acquistato un anno e mezzo fa poi è romanista ce l'hanno rubato dici te laziale vabbè affanculo tra l'altro pure Scamacca ho letto che è super romanista è vera di tornerà in Italia per un'offerta buona secondo me non lo comprono il mediano quelli dell'Inter abbassano ciala eh sì sicuro sicuramente è una vaccata Nanni sì se riciochi un altro anno senza il trequartista lì allora sei un coglione due volte anzi tre cioè ciala non è un mediano poi ovviamente ha le qualità per esserlo ma siamo abituati a un mediano che corre poi magari dare un po' più di fiducia ad Aslani ma secondo me l'Inter lo vince perché è l'organico più forte da due tre anni a livello di rosa tipo se giocassimo a Pesso o a FIFA ma gli mancava tanta fiducia secondo me la delusione della finale di Champions calcisticamente parlando può portare a un salto di qualità più cinico in campionato ma poi sono sempre le stesse dipende anche cosa prende la Juve che mi sta sorprendendo perché di solito fa colpi importanti ma sembra molto sgonfiata la situa bianconera sì anche dal punto di vista decidenziale comunque secondo me risponde alla domanda di Diego secondo me Napoli non lo rivincerà mai quest'anno effettivamente non ha venduto tutti lo vince più per demerito delle altre piuttosto che per il bel gioco cioè non lo so poi ovviamente sono impressioni non lo sai mai però Spalletti che non c'è il gruppo che magari non è più guidato dallo stesso mister che è stato comunque amato condottiero e via dicendo vai a sapere se osimen rimane perché Aurelio dice 200 250 milioni però vedrai che se ti arriva il PSG all'ultima giornata perché la troviamo Mbappé come fa presto si men ce lo portano a Aurelio della Rentis a Parigi e per vedrai che se arriva lì con la valigetta come fece Moratti con Ronaldo e Toro arrivi con la valigetta ti presenti al tempo 40 ora 140 milioni torni indietro con Osimen e secondo me per esempio un Lobodka per dire Lobodka e Zambo che comunque era un centrocampo devastante non te lo rifanno più la stessa annata secondo me dell'anno scorso perché già Zambo arrancava l'ultima settimana come Kvaraschelia che come Kvaraschelia che l'ultime dieci giornate sembrava totalmente nerfato totalmente potenziato non lo so secondo me è difficile che rifà sicuramente giocheranno e giocano per gioco che possono vincere assolutamente sì ma come lo può vincere anche il Milan la Juve la Roma la Lazio come qualsiasi squadra che è campione in carica per rinnovarsi l'anno successivo devono prendere qualcosa che gli faccia un acquisto titolare e ripare la panchina a modo per esempio a Leicester il Leicester è il retrocesso quest'anno c'è in DD che secondo me il vice di Anghissa lo potrebbe lo potrebbe prendere il Napoli costerebbe secondo me meno di 15 milioni per quanto poi in Inghilterra forse ho sparato una cazzata forse 20 anche perché anche se è retrocesso il Leicester voi lo sapete economicamente parlando l'ultima della Premier League guadagna 50 milioni di diritti di V 27 la prima in Italia miliardari allora ho delle cose da chiedervi e da di cui discutere innanzitutto non mi pare che abbiano fatto grandi acquisti fino adesso a parte cioè avevano venduto per 80 milioni tonali che è stata la cosa più in Italia in generale in generale l'Italia ha venduto per 80 milioni di tonali e poi non ci sono stati grandissimi acquisti dici oddio se ne sono andate qualcuno no allora io qual è dell'italiano che rimane in Italia cioè tipo tonali che se ne va vicario che se ne va al Tottenham vicario che pazzia folle far l'uscita all'Italia è andata così vedi anche per esempio Brozovic che se ne va Milinkovic che se ne va cioè questi sono centrappisti che sono e adesso ti dico chi è entrato ditemi se per voi possono compensare quelli che se ne sono andati perché c'ho qua davanti quindi sono preparati allora frattesi no no allora frattesi all'Inter e quindi gira in Italia è in Italia bellissimo giocatore Turam all'Inter bellissimo Loftus-Cic al Milan parliamone allora per sostituire loftus loftus ok aspetta che io non so neanche quanti anni questo ragazzo è scuola celsi il celsi 27 anni è la squadra che cura le giovanili prima di Abramovic cioè prima dell'abbandono di Abramovic parlo del celsi prima dell'abbandono di Abramovic hanno curato i giovani in maniera impeccabile hanno avuto un settore giovanile unesto bellissimo completo Loftus-Cic è il classico giocatore che in Inghilterra non trova più spazio perché le sue qualità le sue qualità a livello di talento non sono secondo me da grande campione è uno scatto ma in Italia un giocatore di quella fisicità ti può svoltare la stagione come innesto non ovviamente come top come gliel'ha svoltato Smalling alla Roma alla stessa identica maniera per me Loftus è un giocatore da serie A si rivelerà da serie A e secondo me avrà tanto minutaggio al Milan perché è una bella bestia perché non c'erano più tonali giocherà solo lui ma io da quel che ho sentito è fatto dei cristalli sto dizio si è fortunato un sacco di volte me lo confermate? sì poi vedo qua che è stato mandato due volte in prestito secondo me secondo me devi partire da un presupposto importantissimo cioè se sei un centrocampista e giochi in Premier e dalla Premier vai in Italia vuol dire che al 100% delle condizioni o nella tua fase splendente non sei sicuramente perché altrimenti soprattutto i centrocampisti non ti lasciano mai andare dalla Premier League anzi sono gli stessi che ti vanno a pagare il Casemiro di turno che è un'altra posizione però Casemiro ha 100 e passa milioni è difficile che o che si prendono il Kovacic o che si prendono è difficile vedere un centrocampista forte alla Premier perché tante squadre giocano con il centrocampo forte e quindi non ti dico che è uno scartino però secondo me non è uno che sposta gli equilibri nel Milan ad ora è un buon giocatore un giocatore ok quanto l'hanno pagato? non c'è scritto qua mortacci loro meno di 20 vabbè perché sono i prezzi che possono spendere in Italia massimo 30 a parte qualche pazzia del Juventus quanto l'hanno preso? meno di 20 da quello che sono tipo 16 dicano in chat 16 più 4 è un bel acquisto ovviamente non parliamo del fatto che siano dei colpacci perché secondo me è l'unico colpaccio in Italia bisogna vedere come va ma l'ha fatto l'Inter con frattesi secondo me che è un bel giocatore non è un fenomeno non è un barella ma è sicuramente un centrocampista che conosce il campionato e che ha fatto un regolare saltino di qualità ma il Milan dove lo fa giocare? cioè dove lo farebbe praticamente giocare? posizionale ma è uno che deve recuperare a palla è uno tosto che ha pure un buon piede è una bestia è una bestia che corre non fa mai gol nella vita però infatti ha fatto pochissimi gol non eccelle non eccelle è una diga anzi no una diga è più un mediano lui è secondo me una mezzata supporta cioè è quello là è il centrocampista esterno volgarmente parlando ma non è l'esterno è quello che sta o alla destra o alla sinistra del mediano e supporta l'esterno sai chi è l'ha allenato poi? all'Oftus? eh te li dico tutti Sarri sì anche Sarri che anno? sarà il tra il 2018 e il 2020 forse l'ha allenato anche Murigno anni fa Conte l'ha allenato e tutti quelli del Censi è andato al Milan vabbè comunque prossimo Luca Romero che ne pensare di Luca Romero al Milan? perché l'hanno comprato? soprattutto perché Luca Romero c'ha 580.000 follower su Instagram? no non ha senso perché c'ha tutti quei follower Luca Romero perché? non è non c'è ci bocca no ah buttarsi però a parte questo non capisco come fa Luca Romero che prende Alilovic è un atli 2.0 cioè Osama Maury tutte queste cose qua certe volte il Milan lo fa magari gli esplode però sai che cosa non capisco nel Milan? che magari gli acquisti esotici ti possono anche dare qualcosa anzi la Lazio è prima secondo me in acquisti esotici che magari gli sono esplosi tra le mani anche tanti oggetti misteriosi eh però il Milan poi è quello che compra Adli che è un ottimissimo giocatore soltanto che non lo puoi far giocare a fine stagione perché poi è oggetto misterioso anche per la prossima quando al Milan servivano dei ricambi alla Decateler o alla Adli ma se non li puoi giocare se non li puoi sentire al centro della squadra o almeno del progetto ad abituarli a giocare quel quarto d'ora che non è mai decisivo tra l'altro come cazzo fai poi a rinnovare la filosofia del comprare il giocatore esotico se poi lo fai marcire in panchina e c'è una distinzione totale tra titolari e panchinari cioè il Milan ha da sempre in questi anni un problema con i panchinari i panchinari del Milan sono le seconde scelte non sono quelli che ti cambiano la partita dopo Adli ve lo posso assicurare è bravo sì 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 è bravo per me Adli è uno da Siviglia che il Siviglia li prende questi qua che non li hanno saputi valorizzare li comprano e gli danno una filosofia dove magari si possono incastrare bene guarda per esempio Suuso e il Mudo Vasquez e ma in Spagna in generale anche con con cosa con Gomez che comunque ha i suoi anni tutto larissimo cioè ce l'ha non so di cosa ah con dobbia è fortissimo prossimo Timo di Wea che è andata la Juventus figlio di Wea tra l'altro è una testa di cazzo il figlio di Turam e il figlio di Wea e l'altra volta c'era pure quello di Clivert ovviamente l'Italia è diventata come il cinema da adesso e fanno tutti i videogiochi che i figli li riutilizzano i figli dei figli figli d'arte sì sì però insomma di Turam se ne parla bene di Wea non ho mai sentito un cazzo come ha Timo di Wea è nato negli Stati Uniti ha giocato se non sbaglio anche nel Lille è un Boruto come un Boruto no è l'ultima è un attaccante molto rapido può fare anche l'esterno può fare anche la punta secondo me il problema è disciplinare per Wea davvero infatti non capisco come l'abbia comprato la Juve che di queste cose ha sempre avuto il pugno di ferro sì da quello che ricordo ha rifiutato di giocare un europeo con la Francia under 20 under 21 cioè è un ragazzo che non mi sembra tanto con la testa sulle spalle però è talentuoso è bravo sa fare diversi ruoli a seconda di come vuole giocare quel pazzo di Allegri secondo me lo vedremo anche esterno ma io in generale ho come l'impressione che non lo so cioè non vedo nessuna squadra rispetto alle altre provare a imporsi nel nel del dire voglio vincere il campionato che l'unica potrebbe essere solo il Napoli non vendendosi men cioè il non vendere osi men potrebbe essere voglio dire voglio vincere il campionato ma anche l'Inter l'Inter della finestra generale l'anno scorso è stata devastante ha quasi caccato in testa al sito in finale si sono caccati 67 gol cioè era fortissimo quell'Inter credo che debba fare tanti cambi dai che devi fare non lo so sono invecchiati dei giocatori di un anno quali sono quelli più vecchi adesso hai dato via a Brozovic intanto vabbè c'è ancora un mese un mese l'unico l'unico giocatore praticamente non ti dio in serie A ma uno dei due tre in serie A forse è il modo che si affaggia la palla coi tempi giusti c'è soltanto Brozovic in quel ruolo là ah è vero pure Diego è andato via comunque ha carriato a fine stagione però io non capisco scusate questa parentesi interista non capisco una cosa allora se Brozovic fa tre mesi infortunato cioè due mesi infortunato e poi recupero l'infortunio e non è al 100% è una merda Lukaku invece è stato sei mesi che è in bidone con le gambe e lui no però Lukaku è poverino è stato sei mesi poverina o è per Lukaku o è per Brozovic o non è per nessuno delle due scusami io preferisco preferisco un Brozovic piuttosto che cioè Lukaku mi ha fatto cacare al mondiale ha fatto cacare in sua stagione ha fatto cacare fino all'ultime decennate di campionato e Brozovic il mondiale è arrivato cioè era un mostro era poi si è fatto male si è fortunato secondo te l'Inter non riesce a trovare un sostituto un sostituto valido in tutta Europa in tutto il mondo riesce a trovare un sostituto valido del Brozo uno che potrebbe giocare bene ora no ammazza chi è che vuoi che compra Marotta si Marotta sicuramente noi scaleremo come diceva Mario c'ha la Noglu al posto di Brozovic ci metteranno Barella ai frattesi come mezzali ma c'ha la Noglu non è il suo ruolo quello l'unico che può sostituire Brozovic con il 3-5-2 di Inzaghi come mediano e Robodka io accetterei come sostituto soltanto Robodka senza cambiare alcun tatticismo all'interno dello schema soltanto lui Bro comunque io sono rimasto chi Aslani raga non l'ha fatto giocare quando c'era senza centrocampista figurati se lo fa titolare per la prossima stagione vabbè stanno già inizi a piangere già a luglio 12 luglio raga l'anno scorso io sono rimasto impressionato dal fine stagione dell'inno vabbè ha fatto cagare ha perso un sacco dei punti però è arrivata a finale dei Champions potete di quello che volete culo in cazzo diciamo la cosa più importante abbiamo vinto un trofeo noi e in finale comunque non avete preso il cazzo in testa dal City nonostante quello che si dicesse vi distruggeranno vi cagheranno in testa avete perso 1-0 e voi siete cagati due tre gol a porta a porta abbiamo vinto la Coppa Italia abbiamo vinto la Supercoppa Italiana siamo arrivati in finale di Champions si è arrivati terzi in campionato cioè tanto di cappello verso l'Inter e al di là del nostro tipo calcistico secondo me non è che c'ha tanti come diceva Nani quella che ve le vuole veramente combatte se non va via Osimane il Nauli per me eppure l'Inter l'anno prossimo potrebbe sfondare tanto c'avete due mesi di campagna di calciomercato ancora che vi serve un attaccante e un Brozo secondo me Brozo non arriverà il no arriva l'attaccante e il difensore secondo me servirebbe ma ti dici che Lukaku ma la situazione Lukaku com'è adesso cioè ancora a palleggiarsela è la classica situazione che ovviamente sarebbe cioè questa situazione Lukaku la sapevamo l'anno scorso quando l'abbiamo presa in prestito secco portiere portiere il ritorno il ritorno di Lukaku adesso stiamo provando a comprarlo a molto meno rispetto a quanto l'abbiamo venduto e il Chelsea fa anche gli sgarbi mandando notizie che sono interessate anche Milano e Juve perché ovviamente anche Milano e Juve sono interessate a quello che poi chiamano Brocco per il resto dell'anno secondo me secondo me lo si prenderà verso gli ultimi giorni però comunque se prendi Lukaku non hai completato secondo me il reparto offensivo dell'Inter non c'è riserve Marco Sturam è molto carino però io non gli darei la titolarità dell'Inter quindi a me piacerebbe un David a me piacerebbe l'attaccante l'attaccante quello là canadese Jonathan David si chiama pure di nome e cognome è un è un fenomeno per me per me è molto forte un nuovo Osimè i canadesi stanno giocare a calcio un similare Osimè ma dove cazzo mai li trovi i soldi per per comprare una roba del genere cioè infatto il problema è l'acquisto per 60 milioni lo dobbiamo fare presidente ma una buon anima cioè hai già hai già dato via comunque o meglio hai preso Turam che secondo me Turam il suo ruolo il prossimo anno sarà cioè quest'anno sarà il vice di Lautaro quello è Turam cioè le faranno fare i bici Lautaro il problema è che quante volte Lautaro il problema la fortuna che però poi diventa un problema è che Zeko ha smesso cioè ha smesso non giova più e Lukaku non sai cosa fa Correa non è un calciatore quindi non è considerabile nell'equazione anche se purtroppo a quanto pare lo è quindi attualmente te hai un attaccante titolare e una sua potenziale riserva cioè Correa dovrebbe fare cioè noi dovremmo comprare gli attaccanti in maniera tale che Correa sia il quinto attaccante cioè sia il Pinamonti dello scudetto con Conte cioè che fa una partita all'anno che strano è l'Arnautovic del 2010 esatto quindi Marco Sturam in questo momento è titolare Lautaro compri Lukaku ne manca uno lo sai cosa manca? e io lo dirò fino al vomito non me ne frega niente che rompo le palle il tre quartiere il sostituto di Alexis Sanchez da tre anni dobbiamo comprare il sostituto di Alexis Sanchez perché non abbiamo ripreso la mezza punta rapida tecnica che unisce i reparti perché? c'è esordi Sanchez era un fenomeno vendire l'autauro a 100 milioni fai cassa e te ne compri 10 ma non è che noi compri 10 e compri mezzo di buono o riga ma non è che saranno solo in Inghilterra i giocatori forti saranno pure altrove ci stanno degli osservatori di merda in Italia che non riescano a trovare vedi la Roma sto arrivato alla Roma Ivan Ndika non so come si pronunci è un certo Oussem Awar allora Ivan Dika è un difensore francese che è giocato nell'Eintracht 5 stagioni e l'altro invece è un centrocampista algerino del 98 che ha giocato nell'Olympic Lione il difensore Ndika è molto bravo anche perché è abituato a stare nello spogliatoio per per tutto tempo è bravo è fisico potrebbe essere un bel colpo per la Roma comunque la Roma Awar non so chi sia ne parla bene chi è Awar è fote? non lo conosco non so neanche dove cazzo ho cercato ha giocato nell'Olympic Lione il 177 partita e 30 gol ha fatto ma l'hanno già preso 6 mesi fa tu parli del centrocampista ex Lione è un ragazzo molto bravo a livello di qualità l'unica l'unica incognita è che secondo me non è per niente un centrocampista dalla fisicità di Serie A però ha molta qualità ah quello contro la Juve ho capito Awar ha molta qualità io ho capito francese proprio non so niente molto molto qualitativo però a livello fisico bisogna vedere se regge il nervosismo e lo stress di giocare contro i cani perché comunque lui secondo me è un centrocampista da Betis Siviglia tipo quando hanno preso quell'altro del Betis che tu dici ma come cazzo l'hanno portato là quello del Betis che hanno preso del Betis che non era un acquisto da Betis molto simile ad Awar non mi ricordo ma dici che è venuto in Italia Fekir chi era? Fekir che sono questi tipi calciatori secondo me Fekir è un pochino più avanzato di Awar ovviamente eh sì sì molto più avanzato Awar mi sembra tipo una mezzala più offensiva è un versatire centrocampista offensivo di pietro destro è un frattesi però un po' un po' meno fisico posso dire una cosa più qualitativo questo è un tizio del 98 quindi quanti anni c'ha adesso? 25 giusto? ha esordito vabbè esordito vabbè la prima stagione che ha fatto tutta con Lione 32 partite 6 gol nel 2017 quindi quanti cazzo anni c'aveva? tipo 18? a 17 anni ha giocato titolare con Lione una stagione intera in Ling One 32 stagioni 6 gol e ha fatto in totale tutte le stagioni tutte titolare tutte le partite campionato del francese tranne l'ultimo qua vedo che ha fatto metà campionato se sarà rotto non lo so e ora va alla Roma questo è un fenomeno c'aveva la fascia da capitano a Lione comunque Lione è padre di bei talenti per esempio la casette che Lione c'aveva che ha fatto la stessa cosa e anche Benzema c'aveva in Lione Lione ha da sempre dei bellissimi calciatori le ultime stagioni qua dice mi ha detto che ho scammato che è un esperto di Roma che l'hanno messo fuori rosa l'ultima stagione la penultima ha fatto 36 partite e 6 gol giocate tutte a Roma è rimasto Murigno sì 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 purtroppo sì vado avanti Atalanta ha preso Mitchell Bacher vabbè sempre si è giocato di strani dal Bayer Leverkusen credo sì fortissimo Bacher è forte sì e Colasinac dalla Colasinac questo qua è se non sbaglio faceva l'esterno all'Arsenal è un è una roccia è un è un però prima all'Arsenal mi sa sì è un è un terzino se non sbaglio è quello dell'Arsenal vero? sì 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 no non lo so non l'ho visto penso di sì è un è un bulldog è proprio grosso non è molto rapido però secondo me è un bel giocatore veramente grosso è il tipo il Masellon e ah ecco Pulisic al Milan visto che ci stanno spammando sto cazzo dei Pulisic secondo me Pulisic al Milan è proprio la definirei una classica interata che vuol dire del team del team USA che vuol dire? è americano sì sì americano Pulisic che per me è proprio l'interata dell'interata del Milan perché è il classico giocatore che non è non è cioè è un bel giocatore però è quel giocatore che è oh cosa succederà mai titolare si rompe fa una bella stagione non fa una bella stagione fa 40 gol ne fa zero cioè è un attaccante è un esterno attacco è vittima di quello che è successo al Chelsea e se ne parla poco ma da quando c'è stato il il conflitto Russia-Ucraina dal Chelsea se ne è andata praticamente la presidenza e l'ha presa qualcun altro e si sono ritrovati a disegnare un piano ma questo è un di calcio mercato completamente sconsiderato se voi andate a vedere tutti gli acquisti a quanto li hanno comprati dal Chelsea l'anno scorso trovate che l'unica punta era fuori rosa cioè è come se fosse stato dato a una mandria di ricchi che non aveva però la possibilità di fare un progetto tecnico infatti se ne stanno andando tutti quelli che erano all'interno del progetto magari avevano un profilo più discreto vedi Mason Mount che a me piace tantissimo l'hanno venduto allo United trovate trovate i video di Mason Mount il ragazzino che mi dà le punizioni di Ronaldo col Chelsea e Pulisic secondo me è quel tipo di esterno che fa la differenza quando gioca con i cani e quindi secondo me è un ottimo acquisto per il Milan benissimo ma lo so però scusa il Milan se lo tiene Leao ma questo è un problema grazie è un esterno che comunque è molto offensivo è molto 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 offensivo io inizialmente non so perché ma poi sicuramente avrò visto le partite del Milan extra contro l'Inter forse to' un paio due tre al massimo in tutto l'anno così magari in secondi tempi però secondo me a destra ma fa così schifo Salame Kerr a me mi dicessero ce l'ho affantagato viene riserva all'Inter all'Inter no perché gli esterni dell'Inter per me sono più difensivi sono tornanti sono più difensivi certo però come sta giocando il Milan adesso cioè comunque dove c'hai una fascia sinistra che è solo offensiva praticamente perché cioè Leao che ti rientra è impossibile Teo Hernandez si ti rientra ma sale spesso la fascia destra è un pochino più coperta magari se ti metti anche Pulisic cioè prendi Zeman allena a questo punto fai prima non darei la titolarità a Salame Kerrs però in panchina un esterno è un buon panchinaro è molto utile è porca puttana molto utile senti ma Pulisic secondo me io mi fido sempre del Borussia Dortmund se non sbaglio correggetemi se sbaglio era molto forte giocava il Borussia Pulisic vero? sì 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 io mi fido del Borussia Dortmund mi sono sempre fidato di quelli che si è preso di quelli che ha cresciuto immobile? no immobile non l'ha cresciuto eh ma non lo sapeva nessuno che si rossa l'italianite c'ha l'alazzite più che altro Aubameyang dal c'era Gundogan anche dal Sant'Etienne mi pare ma anche i recenti Mukoko Adeyema ma anche Adeyemi Adeyemi o Adeyema non mi ricordo ma anche Shinji Kagawa ai tempi Wandowski oltre i famosi Lewandowski Gozzerois Gundogan uno ragazzi uno ragazzi sì sì però tanto gli scudetti vinceva il Bayern Monaco quindi Hakimi l'ha preso dal Real Madrid in prestito l'ha cresciuto il Real Hakimi non il Borussia Dortmund senti qua poi ci hanno buttato in mezzo un Bellanova al Torino vai ok Raul Bellanova esterno italiano ultima stagione è presso dall'Inter si trasferisce dal Cagliari al Torino a titolo definitivo l'avete dato via bravi è un classico giocatore da quelle squadre per adesso va bene così io sinceramente nell'Inter non gli darei neanche mezza colpa no no è un panchinaro però è quello che devi fare meglio che sia al Torino titolare sì una volta sì una volta con Juric che all'Inter in panchinaro poi c'è come cosa t'aspettavi c'è che ti risolvi ti diventasse Perisic quando entrava quelle due volte nell'anno c'è che cazzo che fa per Poi Cristiano siamo arrivati qua si parla di giocatori che magari quando li prendi potenzialità ce l'hanno anche il problema è che se non li fai giocare non c'è un conto è la partita all'allenamento ma poi il giocatore deve giocare siamo giocatori se non gioca non prendi il ritmo non prendi i tempi le misure i compagni di squadra non quanto hai giocato? va bene Bellanova ha giocato da Gregario non è mai stato titolare sarà partito un paio di volte si sarà fatto quei 20 minuti secondo me è una bella riserva da Serie A Andanovic lascia l'Inter è ufficiale adesso chi? Andanovic ufficiale ora proprio un'ora fa in realtà però vabbè contenti? ma sì sì sono me che cazzo c'è vediamo in porta? nessuno chi c'è Portamone l'Inter? scusa non ha andato via Andano chi c'è che è il terzo portiere? secondo me l'Inter ballotta si sta mandando via Andanovic secondo me è perché si vende anche Onana e si prende Sommer e Tribin così si prendono anche il portiere di riserva che come Onana diventa titolare dopo un anno sei mesi Danto la la cringiata l'hai già fatta quando hai lasciato andare via Vicario perché la stavi aspettando lo United per il cazzo di Onana sapendo già di venderlo un pochino mi sale il magone con Andanovic che se ne va e vabbè è un pezzo è come Sergenzi sono tanti anni e comunque era capitano e tutto però cioè se lo devi tenere lì me con tutto rispetto per Andanovic non mi sembra libera Imovic della situazione che dici è nello spogliatoio perché deve stare c'è Andanovic quindi quante offese che ho dato ad Andanovic il giocatore che tu hai insultato in questo ultimo decennio la serie porca troia ma più che altro a me è crollato dal cuore vabbè non c'è nemmeno bisogno di capire di esprimere qual è il difetto di Andanovic penso che lo sappiamo tutti in Italia è meta però dico quando l'ha fatto con la Juve con quel gol di quadrato dalla fascia destra e ho capito che non si impegna anche nella situazione importante che quel vizio ce l'aveva anche per le cazzate l'ho cominciato a disprezzare ampiamente ma era un validissimo portiere ma non solo validissimo era fortissimo Andanovic ha fatto uno due anni che era al top in Europa però c'aveva questa questa presunzione diciamo di battezzare le palle fuori o comunque di autoclamarsi vinto quando determinate parabole gli andavano in forno è pure vecchio però nell'anni d'oro quant'era forte Andanovic avrebbe sborrato a livello di riflessi Andanovic è stato incredibile fin dai primi anni al Treviso io me lo ricordo che ha giocato contro un Inter lo cazzo trovi che stai un po' di guardare il Treviso no l'Inter contro il Treviso io faccio così ha giocato contro l'Inter e quindi magari dico ma sto Treviso e quindi me lo andavo a vedere però si parla tipo degli anni di Ibra all'Inter sì 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 quando c'era Lazio era una merda quando la Lazio era abituata a retrocedere gli ultimi due quindi in totale 14 13 giocatori fino adesso e stiamo al 12 luglio il penultimo è Yankto Alcagliari che ha un non so perché hanno dovuto scriversi una cosa ma ha fatto coming out di recente e quindi è il primo calciatore professionista nella Serie A ad essere dichiaratamente omosessuale sì due o tre mesetti fa e sì due o tre mesetti e Yankto tra l'altro era quello che giocava non era quello che giocava con il Salisburgo era lui Yankto sì che c'era Yankto giocava eh giocava già nella Serie A in Udinese Yankto è da moi in Italia penso no non è San Pudinese San Pudinese è fatto e e poi c'è Gagliardini al Monza è mediocre a titolo gratuito la vera vittoria ma come a titolo gratuito ma guarda gli davo 100 euro ce l'accompagnavo io forza bagai forza bagai non ci sono c'è un calcio che non si vede all'infuori della televisione dove tu capisci al di là di come la prendono psicologicamente che ci sono dei giocatori che fin dalla tenere età si vede che sono fortissimi per esempio Stefano Sensi è uno dei calciatori più forti degli ultimi dieci anni in Italia potenzialmente dentro di sé dentro di sé quando era un giovinetto 15 16 17 anni secondo me Sensi faceva sborrare qualsiasi allenatore qualsiasi genitore che andava a vedere questo beniamino giocare a pallone secondo me Gagliardini non è mai stato fuori secondo me Gagliardini non è mai stato fuori a parte che me l'hanno pure detto però si vedeva che era un calciatore pompato dall'Atalanta perché era bravissimo a far girare questa squadra dove lui aveva veramente pochissimi ruoli io l'ho odiato l'ho odiato calcisticamente eh attenzione certo però ne ha fatte veramente troppe e questo ultimo finale di stagione dove si fa espellere in quella maniera mi ha fatto capire anche una certa inconscia ingratitudine che ha si sentiva sto cazzo e non era veramente niente Gagliardini per me è uno dei giocatori più anonimi della storia recente dell'Inter io la prima perché la Monza se ne fa panchina non è inceleva in nulla è un calcio un classico giocatore che visto che è da anni a Milano era conveniente non cambiare più di tanto andare a Monza ma anche perché tu stesso che ambizioni devi avere se non rimanere in Serie A per un altro contratto e magari quello ancora perché giochi bene al Monza veramente una pippa per quanto mi riguarda e mi ha fatto arrabbiare tantissimo io veramente poche volte quando vedo le partite di calcio mi sfogo tipo i pugni sui tavoli eccetera ricordo soltanto Gagliardini e Andanovic contro la Juve quella sera in quel locale però Gagliardini mi creava problemi proprio di rabbia dei Raftus allora io sotto mano c'è un po' di notizie fresche proprio recenti se volete ve ne leggo qualcuna per esempio vabbè Andanovic lascia l'Inter so dell'Inter ma non perché lo cercate c'è sta due notizie dell'Inter una è obiettivo scudetto ci riproveremo per l'Ukaku e vabbè Andanovic lascia l'Inter e poi c'è un'altra inchiesta su Real Madrid 122 milioni di spese non giustificate e mo' gli faranno il culo spero sei perché il Real Madrid ogni anno sta creando uno stadio non so se avete visto le notizie andatevele a recuperare il Real Madrid sta ricostruendo il Bernabeu che sembra lo stadio più bello della storia del calcio c'ha proprio il sistema di irrigazione dei campi il ricambio delle zolle nel sotterraneo dello stadio tutto fatto con tonnellate di perro che si può capire e chiudere quando vuoi il tettuccio a livello di condizioni atmosferiche poi in Spagna hanno sempre avuto problemi legali sono un po' lucky vabbè sono come gli italiani stanno per meno sulla stessa linea peggio perché ci sono più soldi dai padre ok e poi un'altra notizia Scamacca vuole solo la Roma vabbè lui da Roma pure tifoso io spero che non ci vada perché Scamacca anche se ha fatto una stagione de merda dice che è stato comunque male quindi non è così scarso eh perché comunque il West Ham si è fatto male il West Ham no? ma si Scamacca ma non lo so sinceramente per far male il West Ham di quest'anno ce le voleva per far male per far male ma lui dice che si è fatto male cioè è stato male e quindi non ha potuto neanche dimostrare un cazzo cioè non è colpa sua dice quando è stato infortunato? lui nell'intervista gli hanno fatto ha detto abbastanza da non poter fan cazzo perché ogni volta la resa fisica di un giocatore a livello di infortuni o meno comunque è importantissimo per definire lo spessore di un campione perché altrimenti di Bala sarebbe l'erede di Lionel Messi 16 partite e 3 gol è da mettere nelle equazioni boh non lo so anche qua credo i tifosi della Roma converranno cioè io se mi dicessero preferisci ti fassi il ruolo e mi dicessero preferisci Abram nonostante la stagione è un po' sottotono cioè molto sottotono o Scamacca io ti terrei tutta la vita Abram cioè se viene Scamacca è perché me lo metti accanto o perché o perché non so l'infortunio quanto cazzo gli durerà ancora magari va veramente tanto al di là e lo devi darvi per forza via salta un anno apposta allora sì però scusami che lì sei un coglione cioè c'è Abram rotto tutto l'anno c'hai Di Bala e prendi Scamacca che è stato rotto con il crociato rotto cioè scusami però è un investimento Scamacca è un investimento potrebbe potrebbe veramente però la differenza in serie A certamente però ne serve un altro ci sarebbe Belotti alla Roma però mi sa che lo danno tutti per morto a Belotti Belotti ma stai scherzando dai Belotti è un carico un po' più basso dai non scherziamo Belotti lo scorso anno se non sbaglio ma l'hai visto come gioca cioè non ha più proprio niente della serie A a parte non è che sia una grinta ma non è che non ha grinta ormai mi dispiace perché io ho sempre venuto bene al gallo però non rende non ha proprio più peraltro sono queste situazioni strane dove perché quando lo vedi giocare io l'ho visto a parte della Roma che stanno quando lo vedi giocare cioè ce la mette la voglia ma non ci arriva non ci arriva non le sbaglia tutte tutte cioè sembra che ci abbia tipo un una spada qua sopra tipo un debuff di Isaac praticamente sulla testa ma perché la Roma non prende Muriel perché nessuno prende Muriel perché c'è la panza io lo prenderei subito Muriel se fossi la Roma però magari sono pazzo è un mio guilty pleasure Muriel scusate io Muriel lo prenderei anche all'Inter eh perché se interessa ti piace Muriel gli ricorda Muriel lo fai lo fai già da super entrante è uno che comunque il dribbling non è di rigore cosa tu te lo fai Muriel è salata all'idol meglio di Correa dell'euro spin Muriel gioca gioca in verticale punta seconda punta poi ovviamente c'è gli acciacchi fisici non è mai in forma è in costante però ti serve sei mesi l'attaccante no ma non è visto quanto Duvanone dici pure mezzorotto perché ha avuto Duvan no solamente Duvan no e allora chi c'è io però ho seriamente paura ragazzi purtroppo scusate il paro della Lazio ma sono veramente impaurito eh perché perché potrebbe andare molto male tra l'altro Milinkovic no perché allora ti punta più che altro con chi gioia che stanno immobile e basta e sì e potrebbero mettere Felipe Anderson le venienze un immobile ha rotto quindi praticamente sempre ormai vedete c'è questa paura che io ho che Saria a un certo punto arriva e dica bella regà mi avete rotto il cazzo stiamo andando in in come si dice a fare il ritiro con tutta la scuola l'anno scorso senza Milinkovic senza altri giocatori perché stanno a vendere tutti e non ha comprato ancora un cazzo di nessuno e lui Saria vuole fare la preparazione con i giocatori nuovi ovviamente perché penso sia tutti gli allenatori vogliono fare la preparazione con la gente nuova e non ha preso ancora nessuno quindi c'è questa paura che Saria ad un certo punto dica bella regà e se ne vada perché lo potrebbe fa penso e quindi rimaniamo senza allenatori senza Milinkovic Bobo 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 secondo me il dirigente dell'anno è quello che prende per la propria squadra in Italia D.A. della Salernitana stavo parlando anche a me dalla chat il problema è che D.A. già firmato con la Salernitana già l'hanno riscattato dal Villareal se non sbaglio si l'hanno riscattato c'è la clausa 25 milioni perfetto che tristezza io lo io lo guarda io te lo dico onestamente poi è chiaro parlo di Ite però secondo me anche un un Milan una stessa Roma una stessa Juve non so le condizioni di Vlaovic quali siano però secondo me D.A. e Nzola sono due attaccanti che io in questo momento vorrei avere ma D.A. Nzola costa anche poco perché uno di due io vorrei avere io ho letto ieri notte che Nzola è partito per il ritiro con lo Spezia e quindi in realtà il piano è quello di farlo giocare in B dello Spezia ma sicuramente ha le valigie pronte e lo prendi a pochissimo Nzola è una bestia è bello è bello è bello poi sono proprio quelle punte che ce ne trovi poche grosse che comunque ti fanno anche lo scattino bei piedi ci sta secondo me non capisco perché devi andare a vedi per esempio la Roma a puntare sullo scamacca di turno che torna da un anno mezzo rotto mezzo non si è trovato bene piuttosto che boh secondo me dipende anche dai contatti che ci hanno perché non è una cosa che è sottovaluta molto sottovalutata ma secondo me anche i contatti che ci hanno i presidenti magari molti si stanno sul cazzo e soprattutto il mediatore la gente loro deve essere molto bravo lo dito si è fatto terra bruciata in giro non ha nessuno figuratevi i presidenti con cui lo dito parlava erano Cellino e quello della Sampdoria per dirvi cioè questi erano Ferrero Ferrero basta e forse quello del Palermo forse non credo non lo so Zampalini questi erano amici dello dito per dirti poi gli altri lo odiano quindi nessuno vuole trattare con lui magari c'è pure questo di mezzo che ne so anche i DS quelli tipo Marotta Marotta sta sul cazzo a tre quarti del mondo e nessuno vuole trattare con lui Marotta è amato in tutta Italia è amato però ci può sta cosa se non si spiega effettivamente perché è una piazca macca piuttosto che non so la che sta a dubassi low cost chilometro zero questione di sordi o ce l'hai o ce l'hai tutto ma la Roma ce l'hai i soldi ma ce l'avranno i soldi sti cazzo dei tedeschi sono tedeschi no? ci sono anche le squadre in Italia che hanno una filosofia di mercato che prendono il bacino vic della situazione e quindi il talento da da tre parti la Lazio l'Udinese sono così e poi ci sono le squadre italiane che sono abituate a dare una seconda vita ai giocatori l'Atalanta per esempio ha un settore giovanile assurdo l'Atalanta acquista poco a livello di giovani i giovani che acquista sono giovani oculati che sono parti mancanti di un bellissimo team giovanile ma bevono poi la Juve è riconfermata Allegri hanno pianto e poi rimasto comunque la Fiorentina scusate l'unica l'altra notizia ha preso Sabiri sono molto contento e molto felice dice Sabiri chissà chissà come crescerà in questo momento è soltanto sovrannaturale e Parisi ma Fiorentina fortissimo Parisi quello dell'Empoli sì per quanto si è fatta la squadra che volevo io bell'acquisto c'è sempre questa strana strano velo sulla Fiorentina la Fiorentina è fissata con i trequartisti ogni anno comprono 840 trequartisti e poi alla fine fanno cata tutti quanti e boh Sabiri ce lo vedo come giocatore della Fiorentina però sto d'accordo con Cardamomo Bobo dime Bobo vi segnalo dalla mia chat il mio nuovo amico Taku che effettivamente ci dice un nome che in Italia viene parlato poco ma secondo me è fortissimo Samardic dell'Udinese lo sai che è accostata la Lazio non lo venderei mai questo anno non lo vedi io come vice Shala lo prenderei subito è fortissimo è fortissimo non sto scherzando hanno parlato tutto oggi alla radio è bellissimo è bellissimo ha un piede ducatissimo ha tantissimo qualità c'è solo un problema che è nell'Udinese quindi lo prende l'Arsenal tipo cose del genere no semplicemente faranno come Baldanzi ora con l'Empoli la stessa cosa cioè te lo fanno giocare un altro anno sanno che farà un'altra bella stagione perché sono giocatori forti che li vedi che sono forti quando 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 giocano e te lo vendono al quadruplo secondo me Samardic il prossimo anno se non si rompe ti sparano anche un 70 milioni e tipo la squadra è premio di turno come Baldanzi Baldanzi è che l'anno prossimo a 50 milioni meno di 50 non lo prende è bellissimo Baldanzi deve riconfermarse però non è che ha fatto 200 stagioni al top secondo me Baldanzi ha già espresso il suo lavoro un attimo quanti anni ha fatto a quei livelli come l'anno scorso da uno c'è 19 anni appunto dai no per me deve avere un altro anno regalo no no sì sì ce lo deve avere l'altro anno però lo sanno loro che tanto farà bene a meno che non si rompa e te lo vendono al triplo cioè capito non te lo venderanno mai ora Baldanzi o Samardic se il prossimo anno c'è un 95% di possibilità che te lo vendono al triplo poi è il gioco dell'Udinese quello come era il gioco di Preziosi e di Zamparini cioè la stessa roba sì 50 l'Empoli non chiede quelle cifre l'Empoli l'Empoli non credo chieda quelle cifre l'Udinese può chiedere quelle cifre l'Empoli non ci vuole chiedere 50 l'Empoli Baldanzi non lo deve vendere a meno di 30 30 ne chiederà bisogna vedere quest'anno cosa fa ma sai perché il classico giocatore che se tu lo compri a 35 a 30-35 poi ti può fare il salto di qualità e lo può rivendere il doppio per i suoi 27-28 anni ma l'Empoli secondo me meno di più di 35 è difficile che riesca a incassarli a meno che a meno che Baldanzi non sia incredibile tanto da sovvertire gli ordini gerarchici della Serie A e portare l'Empoli nei pressi della conference si pure l'Empoli hanno rotto il cazzo l'anno prossimo ci sta Napoli Inter Milan Juve porco Dio Roma Fiorentina Atalanta e la Lazio questo è fantacalcio l'Empoli è una squadra da salvezza tranquilla chiaramente l'anno prossimo pure la Fiorentina sarà fortissima il Bologna non so se riconfermerà la stagione di quest'anno sarà ancora più forte per dire deve essere forte ogni anno Singo è sì ecco Singo all'esterno che vorrei all'Inter posto di quel brodo di Danfries però non è che si differenziano voi così tanto a livello di qualità secondo me poi Singo c'è il vizio del Gao voglio vedere Bologna che ha fatto il Bologna allora ma secondo me comunque Parisi quanto l'hanno venduto Parisi a pochissimo tipo vero? no dai ma davvero l'hanno venduto a pochissimo in cazzo Parisi 10 milioni l'hanno venduto che è un esterno fortissimo ma secondo me ragazzi quelle sono cifre che non cioè sono cifre di facciata cioè sono rientrano in sono giocatori che rientrano magari in accordi passati futuri presenti scambi favori per la cosa che dicevamo non che ci sia non dico che ci sia la mafia sotto però è tipo il classico scambio a Correa a 30 milioni cioè perché magari sono a sega cinquanti prima l'Inter c'era bisogno di un centro a pista te l'hanno data a meno però prossima volta che c'è favore ti compri il brodo a di più perché è possibile che dai via a Parisi 10 milioni cioè è proprio oggettivamente impossibile la Juve è stata estromessa dalle coppe europee perché ha fatto un casino a livello finanziario non è da loro che strano ma io da quello che so hanno rifiutato di partecipare alla conferenza che hanno fatto no me l'ha detto un tizio è vero ma la Juve si è no rifiuterà di partecipare alla conferenza non si dovrei scrivere cioè non si scriverà è vera sta cosa ma no ma che vera la mestromessa no che l'hanno estromessa hanno comunicato ma comunque era una merda era una merda cioè se la Juve la Juve si fosse qualificata a una coppa importante la UEFA avrebbe fatto viso viso duro e l'avrebbero cacciata comunque visto che non era necessario fare viso duro è stata un'operazione più morbida ma la Juve in qualsiasi caso fuori dall'Europa questa non ci sarebbe stata ma ha senso di partecipare a quella coppa secondo te Mario per una spara come la Juve la conferenza io sono un grande affezionato delle coppe europee tutte è un dito in culo la cultura in Italia sulle coppe europee bro io se fossi la Juve l'Inter il mio lascerei il posto a altre squadre saranno non mai direi che l'obiettivo è vincere ma io devo io devo qualificarmi alla Champions sono la Juve l'Inter devo qualificarmi alla Champions devo fare un campionato al top e vado a perdere tempo quante partite so 17 partite di conference si vede che sei da Lazio va bene Diego questo è un atteggiamento conference quale in finale di Europa League quale in finale di Champions e voi vi siete scansate ai gironi come vostro solido e poi dite quanto è forte Cire Immobile quanto è forte Cire Immobile noi dobbiamo fare pure bella figura in Europa non è che dobbiamo soltanto succhiarci il cazzo da soli e dare il titolo dello scudetto a qualcuno non c'è uno che d'accordo con me su sta cosa le squadre italiane in Europa cioè se lo stracionamento allora anche la Coppa Italia non varrebbe un cazzo cioè però è comunque la Coppa Italia cioè però ci sono al Monza la Coppa Italia la fai per il blasone e sta in Italia e la conference ti so di 16 partite che si mettono in mezzo ai gironi e tu sei la Juve ti qualifica tra le prime 4 no secondo me il discorso è diverso per me il discorso è che la conference viene sfruttata ma cioè viene usata male proprio e di solito le squadre italiane che hanno partecipato negli ultimi due anni c'è sempre quella via di mezzo cioè non do il tutto per tutto per vincerla però neanche faccio giocare 11 bimbi cioè comunque un po' un po' però se perdono la metto la puntuale allora o la sfrutti e la dici cazzo la voglio vincere perché è un trofeo è una Coppa Europea e vaffanculo a tutti e quindi la giochi con i cambi che devi fare però la giochi oppure fai usi l'occasione per far giocare la strana di turno tutte le cazzo di partite quello si su quello ti dare ragione che fa campionati di mezza classifica in Italia da anni che ha la possibilità di andare a giocarsi una finale europea e magari vincerla anche in questo caso non l'hanno vinta però che bello per un tifoso della Fiorentina ma che bello anche per una Fiorentina che in quel caso sarebbe rimasta rinchiusa in un loop di metà classifica anonima che in realtà quest'anno è valso tantissimo infatti tutti quanti siamo contenti della Fiorentina la ricordiamo per bene no? poi non so che sei pisano bobo io no no a parte non sono pisano tu mai pisana e no no ci mancherebbe e no ma infatti è cioè buono poi è chiaro che per la Fiorentina di turno che vince il cazzo da 80 anni ha più valenza la conferenza rispetto all'Inter e la Juve però per esempio Diego con tutto il rispetto dovresti valutare in quanto tifoso della Lazio di essere allo stesso livello di quelle squadre c'è anche per te la conferenza dovrebbe essere Miraulo già la finale perché comunque c'hai già vici il cazzo da 80.000 anni no per me la Europa League per me la Europa League non è la la Europa League ma non è il Gironi quest'anno la Europa League noi siamo dalla Europa League non me non fai del cazzo la conferenza è dalla Bologna Udinese è arrivata la Europa League ma non la Lazio ma perché Mourinho non capisce il cazzo ma aggulisciti la tocca vuole farla politica abbiamo abituare defosi alle campe europee è siciliano ora Mourinho eh sì è quello è quello è quello Mourinho non è si vede non capisci un cazzo dobbiamo abituare defosi alle coppe europee questa è la mia filosofia di calcio ma vattene a fanculo prendi in giro me ma non prendere in giro Giose ma non lo sto prendendo in giro te sì vabbè terresti capirai è possibile discutere per averlo in Italia sì sì un merda che dopo Cragnotti non ha combinato un cazzo della vita sua va bene se la Lazio è arrivata seconda vi fa capire il livello del campionato italiano questo vabbè queste sono offese gratuitissime Bobbo il più forte streamer che tu hai partecipato l'ho letto pure io prima in chat sta cosa ah io non l'ho letta non devo dire senti ma invece il Bologna l'anno scorso ha fatto una porca figura no? è andata bene alla fine il Bologna no? Sì ha comprato Van Hoidonk che è un 23enne olandese e Beukema un altro 24enne olandese dall'AZ Alkmar ha venduto Iki all'inizio dell'anno scorso ha solo l'unico vabbè Medel è andato via al Vasco da Gama e che sono rimasti gli stessi più questi due nuovi acquisti il Bologna secondo voi quest'anno potrebbe fare una bella stagione cattivante come l'anno scorso è il Bologna Bologna secondo me è una piazza molto particolare è una piazza particolare perché ha una cultura un pochino più lontana rispetto alle altre secondo me è un cerchio più chiuso rispetto a mentalità eccetera tanto secondo me l'ha fatto il tanto spogliatoio di Sinisa negli anni Siete scudetti il Bologna Sì ma ultimamente è tipo Arstack Silver su LOL sono lì non so cosa sia però però sono belli cattivi secondo me ci sono un sacco di Bologna che ha incazzato un mostro Tiago Motta ha delle idee così tanto diverse dall'ordinario che se sei un amante del calcio anche se andrà verso il fallimento non puoi fare a meno di non apprezzarlo secondo me è da monitorare perché ha delle belle idee non l'idea alla Pirlo secondo me è un pochino più valide poi c'è Orsolini che aspetta il salto di qualità Orsolini o quest'anno il prossimo ma poi basta a te aspetta perché io stavo proprio per dire secondo me il Bologna devi capire bisogna capire un secondino se l'Orsolini torna a fare l'Orsolini cioè ovvero che torna a fare schifarcazzo come le scuole stagioni doveva venire l'Orsolini è sempre stato uno che Al Bologna è tipo il Sansone 2.0 cioè porta rispetto sono qui giocatori strani Caprari Orsolini sono qui giocatori che però Orsolini sa fare anche altri ruoli in verticale rispetto a questi esterni lui secondo me ha tanti problemi di cartellino ce li ha molto molto molti cartellini per essere un giocatore offensivo ha molto talento ho paura che possa essere quel tipico calciatore forte ma che non fa che non esplode mai secondo me dovrebbe andare via da Bologna però è bello vederla al Bologna perché è il suo è il suo giocatorone no? però secondo me ha bisogno di allenatori che gli permettano l'esplosione allenatore a Bologna che possano rivoluzionarlo ne potremmo vedere pochi in ottica Mialovic secondo me gli ha dato tanto e si vede tanto il tocco di Mialovic però Orsolini deve essere allenato da qualcuno come si deve per fare per fare questo famoso salto io parlo da ex detentore fantacalcio in molteplici anni sia di Lamez che di Orsolini e mi hanno rotto i coglioni spero per i Bologna anche Rossi sì Rossi poi faceva per otto partiti di fila è stato sempre scostante comunque sembra ufficiale che Faraoni andrà al Napoli e sarà il vice di Lorenzo col paccio in panchina per la panchina col paccio è diventata la cantera del Napoli Faraoni noto portiere dell'Ellas Verona perché ha parato la mano si si bellissimo io non so come sia possibile una mano di Jay ha tolto una palla che sta entrando primavera Lazio e Inter ce ne vai? vabbè il Napoli comunque non si sta depotenziando effettivamente no no finché non vende nessuno c'è da sostituire Kim perché Kim chi c'ha ora come dire sostituto Odegaard chi cazzo era Odegaard è trequartista chi è il coso tipo il danese che c'ha in Ostigard Ostigard ma per me il problema del Napoli è l'allenatore non credo che ci sia uno spalletto non credo che Ludica sia come spallettone dai non lo so se giochi con se dai via Kim e vuoi giocare titolare Joan Jesus cioè hai perso il campionato cioè proprio dai un proprio un fai uno statement cioè dichiari molti su tipo alle presidenziali al microfono e fai voglio perdere il campionato grazie arrivederci piuttosto mettici in bimbetto 19 anni a caso prima di giocare con Jesus ma che cazzo è Luque Bacchio come cazzo si dice Luque Bacchio è buono Luque Bacchio si Luque Bacchio ad alerta a Berlino ragazzi Daniele se n'è andato per un paio di giorni ciao ma c'è sabato si Mario ti faccio sapere cosa vuol dire è perché ha avuto l'operazione cioè si opera quindi non so quando si opera vabbè vabbè senti io comunque te ci sei sabato sera c'è qualcuno in quella casa che mi può ospitare Mario io ho un mese che ti dico che vengo a dormire un calciatore meraviglioso 15 luglio certo certo vai la Michelle c'è Michelle te la butto giù a pedate sennò quella porta ci entra tranquillo è che abbiamo avuto un piccolo problema Giuseppe Chirico presumeva che ci fossero che fossero tornate le cinici da letto ma secondo me sono secondo me sono paranoici e comunque te staresti staresti dove non ci sono sicuramente ma io vado a dormire a casa di Berga che è un test il mio disco veramente non c'è nessun problema vieni da noi vieni da noi no no non ci vengo dopo questa non verrò mi hanno detto mi hanno detto l'altro giorno Mario forse sono tornate le cinici da letto io ho controllato tutto e non sono tornate secondo me semplicemente hanno paura delle punture delle zanzare che gli hanno fatto irritazione hanno stai cimici nella testa però abbiamo fatto la disinfestazione Alessandro e poi in ogni caso non saresti dove molto probabilmente non ci sono staresti nel mio letto ti pare che ti faccio dormire nel divano letto una notte che stai qua ti tratto da re porco dio no che c'è no no niente 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 e via sto a leggere le notizie da scusate ogni domenica esce un giocatore nuovo ma tu dormi soltanto il quindici Alessandro si si a casa di Berga il mio non vieni più no no ma perché ho capito che siete un po' lontani da dove sono io oh merda c'è la chat che ti dico scusami ma se mi metti in testa il dubbio di un potenziale presenza ci usci a letto a sei malato sei no io l'ho fatto perché magari tu saresti arrivato qua qualcuno te l'avrebbe detto e ti saresti sentito tradito del fatto che non te lo dicessi io esatto e quindi non vengo non ci sono ma non mi chiedo con lo stesso rispetto con il quale dico che c'è il dubbio con lo stesso rispetto ti dico che ci stanno no porca troia se Daniele sta a mezzo imparanoiato perché ha vissuto un mese che c'aveva gli insetti che lo mangiavano io sono mancato in Sicilia una settimana e mi hanno detto sono tornate sono tornate perché ok ormai sono esperto di cimici volete sapere come si trovano le cimici da letto ve lo spiego aspettiamo due giorni e poi vediamo come si sviluppa allora qua probabilmente dicono che potrebbero esserci a parte che a parte che tu andresti a dormire nel mio letto che ho comprato da ciccio merino quindi ti farei trovare bello ma vende mobili devi controllare le toghe del letto no queste le toghe del letto tu devi controllare se ci sono la merda delle cimici perché se ti mangiano vuol dire anche che cagano te stesso no e la merda delle cimici si vede si vede perché sono dei punti neri che se tu fai così se tu fai così ma metti un prodotto se ne vanno e ho messo pure il prodotto è tutto sotto controllo boh io andrei da berga sotto controllo è una parola da non utilizzare secondo me va bene va beh rimane nel dubbio per sempre si 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 no ma il prodotto poi dopo vedremo da berga allora che schifo sentite ma l'Atalanta l'Atalanta lo dà via Oilund ma l'Atalanta compra e basta c'è una rosa di 100 giocatori porco Dio l'Atalanta è un capolavoro calcistico se bestemmio perdiamo gli sponsor l'Atalanta è un capolavoro calcistico si ma perché come perché fa una stagione dove fa 100 gol poi perde 10 a 0 con la Salernitana perde 20 partite poi ritorna e arriva a quarta quinta ma va a fanculo va l'Atalanta in 10 anni è diventata una squadra una comune Empoli a diventare una squadra che è sempre in profitto di bilancio la Tanta è bipolare che ha coltivato calciatori su calciatori su calciatori che si è giocato la Champions League contro il Paris Saint Germain che hanno perso al novantesimo che si è giocato che si è giocato l'anno prima l'Europa League si è una squadra incredibile che era una piccolina che è diventata con un progetto sano e con lo stesso allenatore per anni una cucina di talento e di risultati se poi noi siamo ancora nella mentalità italiana che se l'Atalanta non vince l'Europa League o lo scudetto è una squadra fallimentare io vi dico che ci manca un fondamento particolare del calcio e cioè che tutte le nostre squadre preferite sono indebitate fino all'osso e non solo le nostre l'Atalanta invece si è costruita lo stadio si cura il settore giovanile porta dei bellissimi risultati in Europa e dà un sacco di talenti anche all'Italia è una squadra perfetta ho delle notizie allora l'Atalanta sta lavorando per trattenere Scalvini aumentando la richiesta a 50 milioni di euro e prolungandogli il contratto poi Gasperini si prepara a salutare Palomino che mi sa che va al Cagliari mazza però è forte però mazza al Cagliari Ocoli al Monza e Demiral a Fanculo l'ho già scritto quindi dopo Colasinic e Pupu sono pronti a chiudere per Becao dall'Udinese oh la Monster nel freezer Becao è carino però a malo l'Udinese vende in Italia hai visto? no stavo guardando Mario non lo so veramente voglio di andare in quella casa solo per tirare la bastonata in testa va bene fallo anche per me te per esempio sai che ci vedrai bene alla Lazio? no Lukman ma non credo che io per me Lukman è un giocatore dal Lazio sì ma è impossibile che l'Udito riesca a trattare con l'Atalanta proprio la squadra anti Lazio l'Atalanta è odiatissima dall'Atalanta ma su me non è questione di odiare cioè l'Udito sta creando sta buildando da anni questa comunicazione che ha odiato da tutti quando in realtà vuole spendere in sordo e chiede 800 miliardi per il giocatore ieri l'anno scorso mi ricordo voleva vendere Vinicovic Savic a 120 milioni eh al Milan quest'anno lo vendi a 2 euro in Arabia l'Udito non mi sembra una tassa questa comunicazione è un po' strano no non ha una comunicazione semplicemente è fastidioso è odiatissimo e certo ho detto tratta solo con presidenti come lui e basta e tutti gli altri non se lo incurano di pezza alla Lazio non si può non odiare il presidente dopo quello che ha fatto Cragnotti è una questione di cultura non fidarsi del proprio presidente ormai ma che cazzo vuol dire ma ci faranno i fatti non è una questione di cultura e voi non avete avuto un sacco di cazzate propinate da Cragnotti che vi diceva la Lazio sta bene la Lazio sta bene poi ha venduto Nesta e vi ha abbandonato non voglio parlare di questa cosa pezzo a Moratti allora è vero culturalmente non si affiduce al presidente Moratti come va lasciato con una Champions e poi e poi dai zitto e poi che cosa ci ha portato il calciatore più forte dell'ultima era Ronaldo il fenomeno ha peso miliardi di euro per noi andando a indebitarsi completamente perché amava la sua creatura che gli ha lasciato in eredità suo padre Angelo Moratti quello che ha comprato Herrera e ci ha fatto vincere il doppio la doppia coppia dei campioni negli anni 60 ci fa vincere il triplete innamorato dell'Inter oggi è Giuseppe Murigno il principe Milito con che cosa ci ha lasciato Moratti che culo ci avete avuto lo sai chi è il primo calciatore che ha comprato Moratti nella storia del calcio dell'Inter ma Avier Sanetti testa di cazzo e sti cazzi e poi come va lasciato quando sei nannato col triplete ci ha lasciato dopo mo che ci avete ci avete i buffi come tutti i presidenti pure i gragnotti però non l'avevo fatto il triplete ho lasciato sì sì vengiamo Mario ma a parte questo in che condizioni è Lukman aspetta ma perché ti piace così tanto Lukman adesso perché secondo me è fortissimo ma è fortissimo ti ha fatto quante partite 5 partite è bello e poi è sparito non si è più sentito ti chiamo fra poco ti chiamo fra poco Edoardo ma sei fortunato la Lazio comunque sta puntando un attaccante del Mez che gioca in serie B francese io prenderei Lukman a mettere dietro le punte all'Inter eh là da adatta da adatta con l'Inter che si ha fatto 15 mila daario redlock redlock che è successo redlock redlock calciomercato la cosa della got league ancora madonna ancora allora io comunque seriamente vorrei provare a nanni ha paura non so ma non abbiamo gli l'abbiamo chiesto va bene davvero di a chiama qualcuno ma la prossima parte non abbiamo detto ci sarà probabilmente luca no si si la regola si quindi diventiamo quattro e poi si intervistare o chiedere a qualcuno di una squadra tipo neopromossa cosa è così se riusciamo a trovarlo una un cagliaritano ci può stare è che tv ti chiamata boh gente che magari non sai anche noi siamo esperti di calcio e ci mancherebbe anzi siamo tre coglioni però boh magari c'è si può venire il tifoso di turno ma che magari ha visto una partita in tutto l'anno c'è lo fa solo per giorno io lo chiediamo al massimo se lo manda a fanculo lo blastiamo e conte vabbè ci sta però più che altro se qualche altro collega poi vuole unirsi in itinere assolutamente sì assolutamente però non lo metto in copertina te lo dico al 87 sulla lazio al 87 mi fa paura a parlare di calcio ma il campionato l'altro parte fra pochissimo in realtà cioè se ti hai fatto la lista è come un mese la lista dei trasferimenti dei venduti acquistati cioè più o meno quelli più importanti però sono pochissimi è calciomercato più brutto ha scritto prima uno della della storia ad ora veramente sono poche 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 roba non ci stanno soldi non ci stanno soldi e nessuno vuole venire in italia non c'ha pile d'italia dimmi perché un calciatore dovrebbe venire in italia piuttosto che andare in inghilterra ad ora è chiaramente per primo cioè prima c'è l'inghilterra a livello di prima c'è l'inghilterra la spagna l'inghilterra tutte tutte le squadre la prima luce spagna ne sono sicuro spagna no germania ma spagna germania c'è tanta merda è cioè a parte le quattro squadre toglie 5 6 e prima poi il resto è insomma a livelli italiani quindi dici solo tutti tutti in inghilterra quello che resta proprio gli scarti vengono in italia sì si distribuiscono italia germania spagna però spagna c'è spagna germania dico a livello di di forza generale delle squadra delle squadre comunque il campeonato italiano non riesco ancora capire se è stato mediocre mediocre mediocramente mediocramente si dice mediocramente 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 basso o se si è alzato il livello di tutte le di tutte le squadre per me si è alzato oh tre squadre in finale dai regalo cioè ho fatto tre finali l'anno scorso ma il livello europeo si è abbassato coerentemente non è soltanto quello italiano soltanto l'inghilterra si è salvata e poi ovviamente in spagna ci sono top team mondiali che che risollevano la situazione cosa che noi invece non abbiamo anche se abbiamo fatto bellissimo rendimento in italia in in europa quest'anno avete saputo della svolta politica sul razzismo in spagna no che hanno fatto no che non il governo spagnolo in seguito a le numerose offese di razzismo nei confronti soprattutto di vinicius junior si fece cassino oltre se si pensava di voler fermare le partite eccetera adesso la polizia spagnola ha il diritto e il dovere di rompere nello stadio e sgomberare interi settori in caso di di insulti razzisti porca fatica se ci sta questa è una presa civile mostruosa soprattutto perché culturalmente in spagna c'è molto razzismo e magari lo facessero pure in italia magari in italia siamo ancora sudditi delle curve vero diego non so se hai visto che c'è in politica presidente eccetera insomma non so che se gli interessa più di tanto ma che c'entro io poi ma che cazzo volete da me parla quale ha l'ottantasette si valenza è di valenza era madrid no che successe cassino con vinicius sì sì ma vinicius ovviamente calciatore mostruoso fortissimo quindi è ovvio che cerchino di di buttarlo giù con delle offese del cazzo da completi incivili orripilanti soltanto che in spagna quando lo fanno a vinicius il governo spagnolo in un anno riesce a fare una legge come si deve in italia se gli insulti razzisti vengono fatti a lukaku c'è la curva dell'inter che gli dice che non si deve offendere perché è normale pensate davvero senti ma questi cori durano più o meno dieci secondi è piaciuta particolarmente a volte durano 90 minuti da anni poi in italia gasperini nega che gli insulti siano razzisti gran malo gasperini veramente io 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 troppo bene forti di tutti gasperini un insulto è razzista degli stati nessuno così è così è esagerato ma e quindi ad ora secondo voi so che è presto e manca ancora un mese di calciomercato quindi vuol dire che probabilmente tre quarti delle squadre italiane rinunceranno a altri almeno due top player a testa non che compro no no figurati se non mai cioè tipo mi stupirebbe se un chiesa di turno chiesa se ne va lukaku se ne va e chiesa allastonvilla l'ultimo se ne va e come chi vedete tra le prime tre allora per me inter lazio napoli secondo me l'atalanta fa top 3 quest'anno atalanta yes se si tengono scalvini e e oilund gioca titolare mi sto segnando tutti quelli che stanno ridendo inter napoli juve faccio le foto però devi segnare tre chat mi sa di faccio tutte le foto tutti che stanno ridendo di questo aiutate diego che pure da me in anni secondo me un pochino la lazio secondo me se arriva sesta è un miracolo di cristo questa secondo me inter napoli juve la juve addirittura la juve non muore mai in anni è come l'oscurità in berserk sta sempre là ad aspettare di rubare la luce hai voluto infilare il manga di merda anche nelle due ore di calcio puro sano e becero niente impossibile abbandonare il cazzo di giappone ho fatto una simile male dai c'è quello l'agio e quello la che parla sempre ong e ngong io non posso parlare diverse perché parla ong tu lui lui è da come parlò che siete che ha messo sto me and the merda in giro ma siamo in forma si chiama calcio mercato ma non l'ho detto io me l'ha detto uno in chat che era uno e si chiama mario sur nolong ogni due secondi mentre non è in chat e finisce con ong pure le schede le schede ha cambiato nickname si si hanno cambiato i nickname sì 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 ma nemmeno sono uno due sono un po lo di tong non ho parole parliamo un po di marvel snap no non parliamo di marvel snap ma ascolta mario che è trista e diego che sei laziale e mi dispiace per entrambi qual è il giocatore che adesso vorreste di di possibile è chiaramente no a land c'è in che reparto e chi sarebbe ipoteticamente allora vai mario prima tu sto cercando il profilo perfetto a me mi piacerebbe milic in attacco io vorrei oilund dell'atalanta in attacco nell'inter va bene bello sperare e sognare io voglio milic 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 lo vedo già più fattibile in attacco alla lazio al mandato milic l'ha preso la juve è andato andato mi piacerebbe un bel mediano di quelli proprio che picchiano sì sì come le desma madu zalem e tutti gli altri criminali voglio barello la della sgommiamo nelle mani ma l'è impossibile la razza non credo che ci verrà mai ricatto se va piena leader ma ma real madrid barella dai 6 c'è andrà tipo o al psg barella barella lo vedo come giocatore che fa al psg e poi non vincere più un cazzo ma è una rabbia una rabbia mi piacerebbe un un bel canzelo fortissimo per chiudere la divina libile contello mi piacerebbe un bel canzelo un altro livello forse si è un po svalorato svalorizzato in questi in questo in questo biennio di prestito eh vabbè ma magari appunto è è un possibile ritorno anzi io ti dico cosa cosa non vorrei non vorrei vedere un fristitolare se possibile nell'internet si nell'inter dell'inter del del 2023 se possibile ma addirittura secondo me non capite un cazzo di interisti avete odiato di marco tutto l'anno prossimo l'anno scorso e va va carriato di marco tanto tanto a parte che c'è questa nomea degli interisti godiamo tutti vorrei informare tutti voi probabilmente dipende anche dalla squadra che seguite che culturalmente non vi insegna un cazzo ogni tifoso è diverso a se stesso io per esempio di marco non l'ho mai disprezzato anzi io sempre davo fiducia da quando ci ha fatto il gol quando ero in prestito al parma quindi pensa te quanto gli volevo bene e non mi prendo la responsabilità degli interisti del cazzo come ci sono i juventini del cazzo ci sono anche interisti del cazzo in italia dupris è un giocatore che rispecchia un sacco di malumori nell'interismo che sono diversi prima di tutto perché lì c'era achini e che abbiamo ancora la sindrome dell'arto mancante secondo luogo dupris è l'esatto inverso di achini achini era rapido elegante tecnicamente dotato i capaci di fare più ruoli della stessa fascia dunfris è un bestione che crea densità che porta la valla avanti quindi arse il baricentro ma non ha alcuna dote tecnica è molto impetuoso e ha soltanto una freccia nella sua peredra sì la corsa sì ne ha anche proficità la corsa e basta direi boh io sinceramente da interista di parte che in generale mi fa da un paio d'anni che mi fa proprio cacare tre quarti di squadra e salvo veramente pochi proprio come gusto personale dei giocatori ma il Milan io lo vedo bene scusate sì sì il Milan dicevo che secondo me di Marco tanto tanto me l'accollo perché seppur secondo me un giocatore titolare di una squadra non ti dico che tu ti fa tutti i 90 minuti tutte le partite però se non altro abbastanza sì e no che al sessantesimo un esterno mi rimanga senza fiato però se replica la stagione passata non ci si può certo lamentare anche nei 60 minuti che gioca però Don Fliss non ce la faccio non ce la faccio a vederlo cioè proprio non ce la faccio a vederlo io in campo che corre per me con quel modulo lì non non basta che corri cioè non non può passarti correre sulla fascia cioè può bastare se poi c'hai davanti veramente tre fenomeni però davanti tre fenomeni non ce l'hai quindi boh dai allora comprendiamo sta campagna acquisti riprendiamo Lukaku e Hakimi e basta c'è una notizia importante sarebbe neanche così male la FIFA ha bloccato il mercato dell'Al Nasser perché non ha pagato credo nel 2018 un acquisto all'Ester City quindi gli hanno detto avete rotto il cazzo dovete cacciare i sordi ma è la squadra di Ronaldo e Brozo sì la squadra di Ronaldo e Brozo le spese milionari sul mercato dell'Al Nasser subiscono prima una forte allenata per mano della FIFA è stato professionato col divieto di desterrare nuovi acquisti sarà che questo forse è il motivo per il quale hanno bloccato l'acquisto di Ziyec per dei problemi fisici quando poi Ziyec ha pubblicato quella storia dicendo ma quali problemi fisici in fin dei conti forse questa cosa già puzzava e la sapevano da una settimana come la dirigenza della Juve che si dimette una settimana prima della della notizia minchiamo allora a chi dell'osservazione al massimo scusa Nanni ho citato un'opera nymphonica no no ci mancherebbe siamo già due però va bene quindi dice non è uno sbaglio è reiterare dicono fake news comunque non lo so io lo sto leggendo da sport mediaset sport mediaset sì comunque campionato io non sapevo che fossero andati pure Kulibaly Brozovic non lo sapevo che era andato lì è scoperto adesso ma Kulibaly alla fine che ha fatto è andato in Arabia è andato all'Alilal dove gioca dove andrà Milinkovic sì mio padre e il campionato poi l'ha vinto una squadra che non c'era i mostri credo ah no hanno comprato Benzema in Kanté ok vabbè Kanté c'ha oh non lo so è che è un po' triste onestamente cioè prima non so se vi ricordate per tipo anche dieci anni fa ora magari Dada non l'ha neanche mai vissuto però per noi interisti dieci anni fa comunque era bello aspettare il calciomercato perché cioè ci speravi c'avevi speranza no poteva ma anche per il milanista lo juventino di turno c'è cazzo calciomercato estate era il primo più bello del mondo perché poteva poteva arrivare chiunque poteva arrivare di tutti da tutte le squadre a Real Madrid da Bayern Monaco dal Chelsea adesso veramente arriva al calciomercato devi stare lì ogni giorno preghi e fai vi prego non mettete bros vi prego non mettete bros vi prego non mettete barella vi prego c'è Dio Cristo è vero è vero dottor Barzotto succhiami i coglioni testa di cazzo l'hanno scritto tutti i giornali tutto sport calciomercato.com sport Italia porca madonna tutte tutte le riviste ne parlano di questa cosa della nostra non è una fake news no a quanto pare dicono che non è stato un blocco di mercato ma 400k di multa no 400k non l'hanno versati nelle nelle casse dell'ester vabbè come sti cazzi ma poi era anche bello non lo so perché c'era già una base solida no di squadra e poi era bello perché quando arrivava il nuovo giocatore il giocatore esotico i gasavi c'è era era casante il giocatore esotico perché speravi sempre che venisse fuori il fenomeno adesso non perché il giocatore esotico ai tempi era Adriano e adesso è Gabigol boh non lo so è brutto il calciomercato d'Italia Biabiani certo è mio padre Jonathan Biabiani Biabiani madonna di me l'ho dimenticato Biabiani ok ragazzi per chiudere io vorrei sottoporvi a una a una un quiz calcistico si arriva a due io vi dico la carriera di un calciatore e voi mi dovete indovinare chi è hai capito non di per ammio mai già finto Diego vai io un giocatore della Lazio un giocatore dell'Inter e un giocatore del Milan quello del Milan lo metto come terzo vai ok ma non vi dico se parto dalla Lazio dall'Inter va bene ok vai sono un genio adesso vedete perché ok primo giocatore giovanili alla stella rossa va a giocare nel cucarici stancom poi va a giocare nel Belgrado poi va a giocare a Lazio poi al Manchester City poi alla Roma e poi all'Inter 1 a 0 per Diego sono un perché giocava in entrambe le squadre capito va bene adesso visto che coloro prima Lazio e poi Inter adesso metto uno prima Inter e poi Lazio dai ragazzi queste cose sono scarsissimo cioè vai vai ok questo giocatore invece si è fatto Velez Sarsfield Pisa Siviglia Zarrate Zarrate no no Siviglia Atletico Madrid Inter Cerci no chi era no 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 Velez Siviglia Atletico Inter Lazio Atletico Racing è anche un allenatore famosissimo Simeone e vince Diego 2 a 0 a massa al Velez come Zarrate si al Velez come Zarrate però se io ti dico Pisa Siviglia non mi puoi di Zarrate no ero partito dal Velez non avevo sentito Pisa c'è bisogno di fischiarmi scusate fai l'ultimo dai faccio l'ultimo dai ragazzi questo è bellissimo ma puoi cerci perché ho pensato Pisa Spagna mi ha avuto mente lui giovanili al Boca e poi alle Studiantes alle Studiantes debutta anche nel calcio professionistico poi va al Genova fa zero presenze San Lorenzo poi va al Napoli Paris Saint Germain e chiude in Cina all'Ebay eeeh ma hai detto del Milan? no ho detto Napoli ma questo è Napoli San Lorenzo Napoli Paris Saint Germain e Bay eeeh Napoli Paris Saint Germain c'è Sculli Lavezzi è l'unico però non so se è lui la accendiamo? è vero era Lavezzi si dai facciamo al meglio delle 5 che se pareggi in anni possiamo fare la finale sei pronto? va bene va bene metto dai scegliamo un portiere adesso un portiere adesso va bene scelgo questo portiere vai Monza poi prestito al Borgosesia Monza Milan Juventus Torino Atletico e poi iude al Milan dove vince anche uno Scudetto Rossi nooo non è Dida Amelia nooo però ci ha giocato con Amelia al Milan ha giocato con Amelia condivideva la porta con Amelia italiano Tatarosano no è italiano italiano giocatore che ha vinto alla fine della sua carriera uno Scudetto col Milan giocato in prestito anche alla Juve però al Milan ha fatto tantissimi anni perché si è fatto 98-2005 e poi 2008-2006 non ha vinto più di uno di Scudetto al Milan più di uno si è quello che dico io a fine carriera io ormai ho letto la chat però mi è confuso con quel cazzo ha vinto uno Scudetto al Milan no a fine carriera ho detto che ha vinto uno Scudetto ma fa culo però dai dillo dillo e abbiati e abbiati e abbiati 2 a 2 adesso ve lo faccio assurdo adesso ve lo faccio assurdo adesso ve lo faccio assurdo un giocatore che tutti vogliamo bene immagino ok a cui? ma voi siete forti forse non lo conoscete no no io no italiano o straniero? eh straniero però che ha giocato in Italia no Bergessio secondo me non l'ho indovinato ma come cazzo fa a indovinare Bergessio? non è Bergessio Bergessio è un calciatore che tutti amano va bene allora diciamo che inconsciamente già vi ho aiutato vediamo se avete capito il mio procedimento mentale no no questo giocatore si è fatto River Plate Barcellona Maiorca FK Mosca Gremio Catania prestito al Milan prestito alla Sampdoria di nuovo Catania prestito di nuovo alla Samp poi Chievo Torino Udinese Vasco da Gama Crotone San Benedettese Mascara no al Barcellona ha giocato Mascara Nagatomo no al Barcellona ha giocato Nagatomo no è un giocatore che ha giocato sia al Catania che al Barcellona poi si chiama quello con i denti che era forte quello con i denti di fuori un sacco giocatori con i denti forti no era uno ah no quella è sempre Mascara Ronaldo no no era Mascara no è che cacca è argentino quest'uomo è un giocatore conosciuto anche a livello di gossip oltre che le belle sue prestazioni dai ha giocato da giovane al Barcellona poi ha giocato ha giocato ha giocato nel Torino si ha giocato anche nel Torino Maxi Lopez bravo vince l'anni questa prima puntata di quiz è stava andato a muro no sta là c'è la chat sulla te a sinistra ma vuole il muro là c'è lo specchio c'è sta cosa c'è sta Strumox pure in camera tua no non c'è è venuto qua col colapesce sull'occhio lì come si chiama eh sì papalazzo va bene l'applauso a chi? non lo so ho fatto un applauso Diego io lo seguo mi piacciono gli applausi un applauso a Caccio Mercatong che inizia e finisce qua che durerà due ore due ore secondo me vabbè ci sta a parte avremo pure Lucone Luca Luca ce l'hai la prossima settimana prossima il martedì a regola sì martedì come martedì mi ho messo mercoledì nella copertina no no lasciamo mercoledì che mi torna meglio anche a me per allenamenti ok mercoledì va bene per me no ma non ci interessa a Mario ok ma vogliamo fare sempre lo stesso orario 6-8 o vogliamo fare 7-8 7-8 ma non è un problema va benissimo sei sicuro? sì ti riesce con gli orari non è che devi fare le rincorse è perfetto così vabbè se c'è sta qualche cambiamento comunicatemelo va bene bello mio siete dei cuccioli ho fatto una caccola grossa buona buona serata altrettanto buona serata da tutti grazie a tutti ciao 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 ragazzi viva il gioco alla Juve ciao sempre Grazie.